8 punti sul farmaco generico Il farmaco generico, o equivalente, è un medicinale che per poter essere autorizzato all'immissione in commercio ha dovuto dimostrare di essere bioequivalente al farmaco originatore. Il farmaco generico deve garantire gli stessi standard qualitativi del corrispettivo medicinale di riferimento. Il rispetto di questi standard viene valutato dall'Agenzia Italiana del Farmaco, AIFA, prima di dare l'autorizzazione all'immissione in commercio. Il medicinale generico ha, rispetto al corrispettivo medicinale originatore, lo stesso principio attivo, nella stessa quantità, nella stessa forma farmaceutica e nella stessa modalità di somministrazione, alle stesse indicazioni terapeutiche del medicinale di riferimento. In cosa può differire? Gli eccipienti, cioè tutte quelle sostanze presenti nel medicinale che non sono il principio attivo. Prendiamo per esempio leganti, conservanti, rivestimenti di capsule compresse, coloranti e correttori del sapore. Nei generici non è necessario che siano gli stessi della specialità medicinale corrispondente. Un farmaco generico ha una sicurezza e un'efficacia paragonabile a quella del corrispettivo farmaco originatore, verso cui ha dovuto dimostrare la bioequivalenza. Il farmaco generico può avere un nome di fantasia, ma in genere la sua denominazione coincide con il nome del principio attivo, seguito dal nome del titolare AIC. La normativa italiana stabilisce per i medicinali generici un prezzo ribassato almeno del 20% rispetto al corrispondente di riferimento, un risparmio per i cittadini e per il sistema sanitario nazionale. Le aziende che vendono i farmaci generici non devono affrontare le spese di ricerca e sviluppo, studi preclinici e clinici di tossicità ed efficacia, già sostenute per il farmaco di marca originatore. Esistono da molti anni. Solo negli ultimi sei hanno consentito un risparmio al Servizio Sanitario Nazionale di oltre un miliardo e mezzo di euro. Zentiva in 5 punti Zentiva è l'azienda di farmaci generici del gruppo Sanofi, tra i principali attori nella produzione di farmaci equivalenti a livello mondiale. Conta più di 6.000 dipendenti distribuiti in 50 paesi diversi in tutto il mondo. Sono un miliardo i pazienti raggiunti dai farmaci Zentiva e 500 milioni le confezioni prodotte ogni anno a livello globale. Zentiva conta 13 stabilimenti produttivi in Europa e 5 in Italia del gruppo Sanofi. In Italia sono 101 le molecole del portafoglio Zentiva e 13 farmaci uguali. Questi ultimi sono farmaci uguali a quelli di marca Sanofi perché prodotti negli stessi siti produttivi dei farmaci originatori e coprono la gran parte delle aree terapeutiche. Grazie ad un approccio innovativo rivolto al paziente, Zentiva è cresciuta mediamente 4 volte rispetto al mercato negli ultimi 3 anni.